Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sul retino attorno alle 14 di venerdì. In città la pioggia battente, la Valdichiana invece è la zona più colpita, con forte pioggia, grandine ed allagamenti. Qui ci troviamo a Camucia. Rami di velti e chicchi di grandine grossi come ciliegie, strade che diventano torrenti. Pesanti le conseguenze anche alle campagne e alle coltivazioni della zona. I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti sul posto con numerose squadre e mezzi.